Allora, benvenuti ragazzi in questo nuovissimo video post partita Allora, domani andiamo a fare un bello recapone Andremo anche a fare i pronostici perché non me ne sono mica mai dimenticato Se mi vedete un po' più stanco al solito, sì, sono letteralmente distrutto Lazio-Napoli, terzo big match di giornata Io non capisco ragazzi, la Serie A Team Perché devo ammettere, cioè tutti i big match a una botta Continuo a non capire Cioè, domani e domenica cosa c'è la Roma? Basta Non seguirò nient'altro Bentornati, forse questo è l'ultimo video che vedrete qua Comunque, adesso si torna a casa Non penso che almeno per, probabilmente, otto mesi non cambierò più postazione A parte quando sarò a casa di mia nonna Ma comunque, bentornati a questo nuovissimo video Allora, Lazio-Napoli Lazio-Napoli, Quara Scelia Ma di che cosa stiamo parlando? Non so La risolvono i due acquisti napolesi Kim Min-Kiae Ok, lo dovevo fare Kim Min-Kiae E Quara Scelia Quara Scelia Ti ha dato un attimo ragazzi Dategli un secondo, due minuti Cioè, due gare di stop e basta Quara Scelia Che giocatore mostruoso Che giocatore Già subito così, random Come Zacania mette dentro Molto, molto strano ragazzi Cioè, gol bellissimo Bellissimo La mette là Dove non può arrivare Meret Ma oggi ragazzi Veramente il secondo tempo napolese Allora, napoletani Non ve la prendete Se dico napolese Mi piace dire napolese A parte gli scherzi Del Napoli È stato veramente ottimo Il secondo tempo Hanno attaccato veramente molto bene Hanno chiuso praticamente La loro metà campo La Lazio E non ha più potuto Praticamente fare niente Comunque vi avviso Queste analisi Non sono molto dettagliate Perché ho visto Tutte le partite Praticamente Dal cellulare A parte 20 minuti finali Di Inter Milan E Gli ultimi minuti Di Lazio Napoli Perché poi ragazzi Purtroppo Cioè, questo qua È un weekend Veramente a pazzi C'è la Serie A C'è la Formula 1 C'è la MotoGP E c'è l'Eurobasket Quattro sport che io Amo Ti abbotta Giustamente Non mi danno un attimo Di tregua Questi bastardi A proposito Se Se seguite il basket Andate su Terzo Tempo EBA Dove adesso Pubblicherò Dopo questo Il video post partita Di Italia-Grecia Mamma mia Non so se seguite il basket Ma Partita mostruosa Anche quella Grecia-Italia Comunque Lazio-Napoli Molto bene Il Napoli Fa vedere che Ha la grinta La cazzimma Come si dice Il Napoli E si porta Quanti punti 11 punti Può essere Se non sbaglio Sì 11 punti Sì Perché hanno pareggiato Due partite Comunque 11 punti Molto bene Questo inizio Il Napoli Sta portando Veramente Dele certezze Che forse Neanche il Napoli Stesso si immaginava Sta lavorando Veramente Molto bene Ho visto Una difesa Molto buona Veramente Questa difesa Kimi Miniae Ramani De Lorenzo E Goat Mario Lui Veramente Lavora molto bene Soprattutto Kimi Miniae Ragazzi Mi sta facendo Impazzire Io Cioè Veramente Spero di Affrontare Questa Napoli Perché Questa Questa Qua è Una squadra Incredibile Quest'anno Il calcio Mercato Sapete Che Forse Anche Vendere Koulibaly Insigne E Mertens Ha migliorato Questa rosa Io Almeno Uno Ovvero Mertens Me lo sarei Tenuto Perché Non Insigne Perché Insigne Avrebbe rubato Il posto Quaraccelia Mentre Mertens È sempre Una Buona Riserva Quest'anno Veramente Il Napoli Si è Migliorato Tanto Tanto Ma Anche Può essere Molto Serrata Tra Napoli Roma E Lazio Vedo Più in avanti La Roma Sempre Perché Secondo Me Come Tutte Le squadre Spalletti A gennaio Avrà un Collo Esponenziale E Subito Dietro Vedo Il Napoli Però Se Erano Sempre Molto Vicine E Ragazzi La Lazio È stata Molto Più Costante A Roma Quindi Vuol dire Che Una Certa Costanza Può Anche Pagare Comunque Molto Bene Napoli Che In Fase Propositiva E Difensiva Fa Veramente Paura Chimiglia È In Difesa E Attacco Osimène Quaraccelia E Anche Irving Lozzano Che Veramente Irving Lozzano È Sparito Si Diceva Un Gran Bene Irving Lozzano Per Me È Un Ottimo Giocatore Però È Molto Incostante Ho visto Poi C'è ragazzi Secondo Me Non so Perché L'impressione Che Sia Quel Giocatore Che Va Alla Sarri Ma Anche Se Sarri Non Lo Valorizzerebbe Ovvero Lo Botka Secondo Me Prima Poi Sarri Se lo Prende Una Sua Futura Squadra Lazio Se lo Prende Quando Tornerà L'Empoli Che Cazzo Ne So Comunque Lo Botka Anche lui Era Mostruosa Mentre All'altra Parte Ragazzi Zaccagni È Stato Il Migliore Per Quanto Riguarda In Campo Ha Segnato Il Gol Non Ha Giocato Male Però In Complesso Non Mi È Per Il Gioco E Non È Da Buttare Comunque Questo Era il Mio Post Partito Domani Andiamo A fare Un Mega Riassuntone Io Non So Cosa Rirvi A parte Iscrivetevi Al Canale Iscrivetevi Allo Secondo Motosport Iscrivetevi A Calcio Pure Extra Iscrivetevi Terzo Tempo NBA Io Vi Saluto Ciao